Alla Scuola Comunale di Musica Marbellini di Pistoia, nella sede di Villa Scornio, si è tenuto un concerto per il Rotary Club Pistoia Montecatini. Una serata particolare perché nel suo ambito sono stati presentati quattro nuovi strumenti messi a disposizione della scuola dall'Accademia d'Organo Giuseppe Gerardeschi. Mancando un cembalo per il continuo, per l'operina che stiamo preparando, la serva padrona, è venuta l'idea di acquistare un clavicembalo appunto per poter fare l'opera che altrimenti non sarebbe stata possibile. Ma poi c'è stata l'occasione di conoscere, quando sono arrivati i cembalari con questo nuovo cembalo, due possibilità fantastiche. Una è un clavicembalo d'Ulken di tipo fiammingo, molto grosso, il grande clavicembalo del nord Europa, e poi anche una delizia che è un virginale olandese che si chiama Muselar, che è talmente affascinante che lo abbiamo preso. Con l'occasione gli stessi cembalari hanno restaurato la spinetta di proprietà del capitolo della cattedrale di Pistoia, che aveva avuto diversi guai, stando abbandonata nel museo Rospigliosi, per cui è stata messa perfettamente in condizione di funzionare. Quindi noi stasera presentiamo quattro strumenti, totalmente diversi l'uno dall'altro. Credo che sia un primato in tutta l'Italia, non credo che nessun conservatorio abbia una ricchezza di strumenti in questo modo. E quindi questo non è soltanto per il concerto di stasera, ma apre delle splendide possibilità sia per l'insegnamento del clavicembalo, ma anche per attività, per esempio corsi di studio e anche concorsi, perché sono strumenti di altissima qualità che certamente contribuiranno a far conoscere meglio il nome di Pistoia nel mondo. Grazie a tutti!